la condizione dei progetti soprattutto quelli digitali ma che non è il pistolotto sul project management classico e anche se volete rinnovato e abbiamo preparato una scaletta ovviamente di presentazione ma ci fa molto piacere che magari ci interrompiate anche in corso d'operato non siamo 150 persone e vari ci poniate la domanda piuttosto che magari le mettete in chat c'è il nostro staff che poi ce le dirà la parte che le vediamo tutti oppure le lasciamo verso la fine siamo l'obiettivo di chiudere entro le 18 ma andrea poi avevamo avevamo il avevamo già una domanda da fare però visto che man mano stiamo aspettando che noi siamo alla destra che era magari se volete mettere in chat che cosa vi aspettate da questo che vi incontro se avete aperto i microfoni per cortesia chiudeteli così non entrano altre voci grazie molto bene quindi se avete voglia di condividere un po le vostre aspettative sarà poi un piacere anche qualizzare un po gli argomenti di conseguenza al momento della rottura del ghiaccio o ai rompi ghiaccio non prendi la parola per me ho detto solo un piaccio non lo fanno sarà un artichiaturale o dittatura passiamo dai due strani possiamo rassicurarvi che non ci ricorderemo di votato non è un esame niente ma la vedo dura non è vero adesso facciamo un test ricorda tutto è passato i 40 anch'io ormai è una volta era più vero da però vedo che stanno arrivando aspettiamo ancora un attimo appro la scaletta buona eccola qui come così giusto per curiosità il project management è uno degli argomenti maggiormente richiesti nel nostro palinsesto d'argomenti perché c'è un po di tutto come ben sai andrea ed è interessante come il project management abbia sempre un grip importante ecco enrico al mici grazie un'introduzione alle strategie strumenti di gestione dei progetti assolutamente sì assolutamente sì ecco poi già lo ricordo adesso perché non giustamente poi alla fine ci sarà anche un modulo di gradimento e anche sapere per darci un feedback su quanto gli argomenti che sono stati trattati come sono stati trattati hanno diciamo soddisfatto la vostra curiosità e soprattutto ripagato il vostro tempo ottimo stavo dicendo appunto quanto il project management sia tuttora un argomento importante pure ormai sono circa sei anni che che circa no andrea che proprio collaboriamo di più no sul management sistemico intendo di a sì allora allora sì su questo sì 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 poi sull'asse misdramatizzare project management due parole inglesi molto importanti management e di progetti viviamo di progetti alla fine esatto infatti tendenzialmente alla fine project management si traduce in come ne andiamo fuori questo la traduzione in italiano prescianizzata ora vedo che scoccano le 37 però stanno ancora arrivando va bene io direi che e visto che comunque abbiamo rotto il ghiaccio abbiamo già anche due indicazioni in chat ci prendiamo ancora tre minuti per presentarci tanto comunque il webinar prego è stata secondo me un'interferenza ah non era voluta ok per cui è registrato e quindi poi verrà messo sul nostro canale di youtube e verrà reso a disposizione anche per chi magari arriva qualche minuto dopo o per qualche vostro collega o qualcuno che si è iscritto e non è riuscito a partecipare dall'inizio allora kylie voglio volevo essere perché ho visto in essere sicuro kylie si è avviata una registrazione è avviata sì mi confermate buon tanto poi questi questi fronzoli vengono tagliati e allora do il benvenuto a tutti a quelli che sono già arrivati e quelli che arriveranno anche dopo mi presento io sono andrea posotti in csmt mi occupo di innovazione gestionale trasferimento tecnologico diciamo in in ambito ingegneria gestionale sono anche incidentalmente responsabile della formazione e formatore con alfredo rabbiotti che il titolare di bico ma ridici due parole tu fra un secondo alfredo collaboriamo da diversi anni ultimamente con un'intensità diciamo dedicata maggiore di di prima sulla su progetti di digitalizzazione in cui andiamo a proporre anche questa che è l'oggetto del di questo webinar di questa metodologia di project management sistemico che va spiegata e lo faremo lo faremo dall'inizio per chi è arrivato dopo ben vengano anche le domande in corso d'opera in chat avete la chat siete liberissimi anzi siete caldamente invitati a farci delle domande oppure al momento debito prendere anche la parola e porci una domanda porci una curiosità intanto che partiamo passano ancora due tre minuti ci farebbe piacere che amare qua in chat ci diceste le vostre aspettative su questa oretta di chiacchierata insieme in modo tale che io alfredo ci siamo preparati ma va bene anche deviare dal discorso saremo più comunicativi e vi trasferiremo più informazioni possibili su questa metodologia penso che ci se metti lo conosciate spendo ancora una battuta su questo ci si metti sta per cento servizi molti settoriali e tecnologico è una consorzio di imprese una scarna società cooperativa responsabilità limitata che vede tra i soci l'università di brescia camere commercio provincia comune tra quelli pubblici una quarantina di aziende private che fa della sua mission il trasferimento tecnologico quindi a supporto del territorio con approccio no profit siamo una no profit stiamo in piedi con il nostro fatturato ma non dividiamo i utili in questo senso siamo una no profit e abbiamo l'ambizione e per statuto la il compito di aiutare le aziende a fare innovazione in questo caso nella giornata di oggi ci occuperemo specificamente dell'innovazione digitale ci occupiamo anche di fondi di project funding quindi di reperimento di fonti di finanziamento che possono finanziare l'innovazione quindi non è finanza agevolata a tutto tondo facciamo anche quella ma soprattutto ci concentriamo su quella che finanza l'innovazione dal bando europeo al bando ministeriale regionale piuttosto che i fondi pnr che anche attraverso il competence center me di cui siamo soci diciamo il legislatore ha intercettato e sta riversando sul territorio attraverso delle progettualità appunto in materia digitale mi taccio alfredo presentati un po tu poi partiamo mi chiamo alfredo rabaiotti da oltre 24 anni mi occupo di andare a sviluppare il potenziale di impresa in diversi ambiti che vanno dal dal da ciò che è il fattore umano organizzativo il controllo di gestione fino ad arrivare a tutti gli aspetti legati al marketing strategico al posizionamento strategico bicom è formata da ormai una una diciamo una nutrita compagine di professionisti ognuno verticale nel suo ambito e la collaborazione con csmt è una collaborazione ormai che compie stavo guardando circa 12 anni 12 13 anni dove ci completiamo a vicenda nel senso che csmt per sua natura lavora con aziende importanti sul territorio dove la multidisciplinarità di csmt è sicuramente un aspetto importante e la volontà di csmt è di starare collaborazioni con chi poi nella ver diciamo negli aspetti verticali che vengono trattati abbia dell'expertise del motivo che ci lega e che ci trova in questo caso specifico a parlare di project management sistemico bene grazie alfredo allora intanto che la gente scrive scriverà qualcosa in chat allora vediamo cosa vuol dire a questo project management sistemico soprattutto la parola sistemico che che altisonante magari merita di qualche parole più quel sistemico sistemistico infatti farò come come siamo già d'accordo un po da intervistatore tiranti io stesso ti interromperò e così andiamo avanti quindi facci capire che roba allora si applica allora nel frattempo ringrazio rocco traini che ha messo un commento interessante assolutamente sì cercherò di rispondere anche queste domande anzi c'è uno spazio totalmente dedicato ti chiedo solo andrea conferma che la proiezione delle slide è ottima e posso proseguire lo lascio dire agli altri però è visibile si penso che sia anche ottimo però io le vedo bene spero se qualcuno per qualcuno fosse così me lo segnali ma dovrebbe essere uguale per tutti allora come sempre è importante delimitare il perimetro quindi partiamo a tutti gli effetti col piede giusto mi interessa partire proprio da che cos'è il project management grazie sarà cos'è il project management sistemico allora innanzitutto partirei cosa non è è un mero strumento di controllo non lo è strumenti sono all'interno del sistema ma questo è un sistema complesso e sistemico quindi non difficile complesso vuol dire formato da tanti elementi dove gli strumenti sono al suo interno ma non è assolutamente da intendere come mero strumento uno strumento meramente tecnico non è solo tecnico ma è estremamente relazionale e poi vedremo anche perché e perché soprattutto a seguito parleremo anche di questo approfondimento come mai dopo una pandemia è necessario che lo strumento non sia prevalente tecnico ma maggiormente relazionale non è una formula statica perché perché la vita è mutamento il business è mutamento e come tale anche deve esserlo un metodo altrimenti ci rigidiamo e il rischio è che poi ci crolla tutto addosso che cos'è invece ovviamente speculare a quello che ci siamo detti prima un metodo per sviluppare il potenziale umano e tecnico cioè quindi sviluppare il potenziale significa anche capire chi ha il potenziale chi non ce l'ha perché anche questo è un aspetto che oggi nelle organizzazioni diventa fondamentale ovvero comprendere le capacità e le potenzialità del team e metterlo a lavorare proprio in quei luoghi in quelle condizioni in quegli ambienti nel quale quella persona quel team è particolarmente performante e naturalmente anche tecnico soft e hard skill uno strumento relazionale e organizzativo quindi è prima relazionale e poi organizzativo perché se non ci relazioniamo non esiste organizzazione è un flusso che continua ad evolversi grazie al contributo di tutti non possiamo parlare di management sistemico se non integriamo il contributo di tutti e non apriamo al contributo di tutti perché la prima regola all'interno di un'organizzazione è chi meglio ci può dire come migliorare una cosa di chi quella cosa la fa che sia l'inizio che sia una parte importante di un progetto o che sia anche marginale ok perché poi è l'eccellenza di tutti crea un'eccellenza globale piccolo piccola parentesi sul concetto sistemico perché sento già la domanda di andrea però l'anticipo perché sistemico perché in questo tipo di management allora il concetto di sistema quando che cos'è un sistema fare l'esempio più veloce più pratico il nostro corpo umano un sistema abbiamo sistema linfatico respiratorio circolatorio e quant'altro la caratteristica di un sistema è che ogni tipo di ogni ogni membro di questo sistema che a sua volta un sistema complesso perché implica tanti aspetti funzionali e vitali contribuisce ad un unico obiettivo che è la vita e quindi il benessere dell'organismo quindi il concetto è sistemico perché perché nel momento in cui iniziamo a pensare un management dove l'obiettivo è il benessere la crescita e il poter raggiungere la vera missione dell'impresa iniziamo anche a vedere le cose sotto un profilo diverso quante imprese oggi per esempio hanno delle degli enti che si arroccano nella loro posizione cioè se faccio qualità il mio obiettivo è l'eccellenza della qualità no è l'eccellenza della qualità quando questa non va a minare l'obiettivo finale perché se la qualità diventa un rallentamento o un precludere il successo finale e quindi il successo di commessa l'obiettivo aziendale quant'altro vuol dire che il sistema sta lavorando contro lo stesso organismo per esempio malattie autoimmuni o comunque situazioni analoghe se lo teniamo paragonato a quello che è il concetto di sistema quindi è un flusso in continua evoluzione questo ecco questo è diciamo il l'aspetto importante dal quale partire andrei io andrei avanti se non ci sono domande mi sembra che non ci sia no ok voi fate voi scrivete che noi ci siamo allora allora non esiste in altro aspetto importante diffidate da chi viene e vuol calare un modello statico quindi esiste il modello x y z no non esiste un modello preconfezionato per calare un buon metodo di project management in un'organizzazione nel corso di questi ultimi si può dire 15 anni dove ci siamo concentrati tanto sull'aspetto di project management posso dirvi che anche aziende nello stesso settore avevano approcci dinamiche totalmente diverse perché perché tutto va in funzione di che tipo di missione all'azienda cosa fa come lo come lo fa e soprattutto anche dobbiamo partire nello sviluppare un sistema di management basandoci su cosa analizzando bene quali sono le abitudini che oggi l'azienda sta mettendo in pista perché come sappiamo la sfida più grande di fronte a un cambiamento è cambiare proprio le abitudini e quindi automaticamente anche il processo di integrazione di un sistema di project management cambia d'azienda ad azienda e appunto non esiste preconfezionamento quindi come allora iniziare a calare un sistema di project management prima di tutto comprendere gli obiettivi che di attori e comparse a noi piace a parte che poi vedremo utilizziamo anche il teatro e in questo caso lo psicodramma proprio per gestire lo sviluppo del modello del management sistemico comunque comprendere obiettivi prima di tutto gli obiettivi imprenditoriali cioè cosa vuole la direzione attori e comparse chi sono gli attori gli attori sono quelli che hanno dei ruoli focali all'interno del progetto le comparse sono tutte quelle figure che collaborano all'interno del progetto ma da un certo punto di vista sono sostituibili diciamo così ok quindi per fare un esempio un attore può essere un ufficio qualità le comparse possono essere delle collaborazioni un'agenzia esterna dei professionisti esterni che lavorano all'interno dello stesso processo ma sono comparse perché nel momento in cui non c'è quella realtà ce ne può essere un'altra diciamo chiamiamole banalmente forniture comprendere clima relazione necessità se non si parte da lì il rischio è che mettiamo in pista uno strumento tecnico e inevitabilmente falliamo climax che cosa come le persone stanno all'interno all'interno dei contesti cioè spesso per a noi basta un giro all'interno di degli enti coinvolti all'interno del flusso che sarà poi il flusso di manager per capire il clima ci si respira già pelle ce lo sentiamo già nello stomaco le relazioni come oggi si stanno relazionando e naturalmente anche se ci sono dei conflitti relazionali spesso ci sono il classico conflitto è ufficio arrendì commerciale voglio il preventivo e la rende che dice devi darmi le informazioni ok questi due aspetti adesso fatto un esempio banale però questo un esempio chiaro poi individuare obiettivi comuni solidi cioè vuol dire chiarissimo ho capito che tornando all'esempio di prima devi fare bene la tua qualità ma ci rendiamoci conto che questa modalità sta andando a ledere quelli che sono tempi modalità e obiettivi generali quindi bisogna a volte a volte non è che questi obiettivi non ci sono bisogna tirarli fuori dal cassetto dargli una spolverata ricondividerli porta renderli maggiormente contemporanei e di conseguenza poi andarli a perseguire e lì poi vediamo come tutto chiaro fino qui cosa vi aspettate da questo tempo insieme alcuni l'hanno già palesato ok bene da dove nasce sto metodo qua perché magari qualcuno si si arrivate voi avete il vostro metodo ce l'hanno un po tutti allora moriamo un po le le radici che hanno convinto che ce ne hanno fatto mettere a punto e poi testare ne siamo abbastanza convinti siamo più a parlarne assolutamente dove viene il progetto in meno nel sistemico ora tutto nasce da lo dico brevemente ma giusto per capire la logica tutto nasce da più di si parla sono già 14 anni che è iniziato il mio amore per il giappone quindi per tutto ciò che era legato al mondo della linea e della gestione progettuale con ottimizzazione tutto ciò che il mondo diciamo giappone che poi è diventata una grande passione anche in altri ambiti però che cosa è successo a quel punto ho cercato di portare a casa cose che già tanti facevano però con un obiettivo molto chiaro volevo tradurla un po in dialetto il dialetto era calarla all'interno di quello che è un po il pragmatismo che soprattutto le aziende manifatturiere necessitano non tanto dal punto di vista magari del management dal punto di vista del sistema perché tantissime condizioni di difficoltà che avevamo raccolto all'interno delle organizzazioni non era la stessa difficoltà a tutti i livelli però che cosa succedeva che finché si stava sul livello di prima linea non c'era nemmeno non c'era da discutere andava tutto bene indicativamente ma nel momento in cui era da trasportare e portarlo all'interno del del diciamo dei meandri dell'organizzazione quindi di conseguenza renderlo funzionale da lì iniziavano i problemi allora da questo punto di vista la logica di farlo diventare sistemico non come dire ok faccio project management perché utilizzo project no project torniamo allo strumento il concetto che cos'è e capire quali sono i veri bisogni poi dopo magari utilizzeremo project ma un altro paio di di maniche a tutti gli effetti è un altro modo e poi come narriamo il cambiamento cosa sta frenando il cambiamento a tutti i livelli da lì il concetto di sistema e da lì dopo ovviamente i primi casi eh abbiamo capito che la strada era quella giusta perché eh creare una forma di traduzione di quello che è un modello di project management a tutti i livelli che abbracci anche tutte le sfumature culturali del team diventa un punto di partenza necessario non è un punto d'arrivo un punto di partenza perché poi dobbiamo capire anche se il dialetto è quello giusto poi vedremo nel caso di successo sulla tmb di rovigo giusto per parlare di dialetto e ecco questo questo è stato un po il la genesi quindi oggi parliamo comunque di che nel corso degli anni sono state molte le realtà in cui abbiamo calato questo sistema e di conseguenza sono appena rientrato da un bellissimo viaggio negli stati uniti in cui mi sono trovato ad incontrare aziende con le quali abbiamo lavorato otto anni fa e essere felice e soddisfatto che tuttora stanno andando avanti con con quel modello e tuttora le performance sono più che ehm gradite e coerenti con i loro obiettivi aziendali ho risposto alla tua domanda Andrea? Sì? Ok. Mi sa che hai dimenticato di far andare avanti un po' le slide anche se ci ho fatto un po' io vedo ancora ok adesso vedo la 4 è giusto allora voglio fare un attimino un passaggio velocissimo non voglio renderlo palloso tra parentesi non ve le leggo neanche perché ci capiamo penso perché ho visto anche i profili delle persone che sono collegate qua e sono tutte persone con un ruolo ben definito però questo è importante passarlo perché dobbiamo capire bene che se non guardiamo queste cose e non consideriamo la necessità relazionale prendiamo non un granchio adesso poi ma un granchio blu che è ben peggio allora mh quindi che cosa ha fatto emergere la la pandemia necessità di continuità operativa quindi mantenere produttività spingendo l'azienda a implementare modelli flessibili già al primo cambiamento modelli flessibili quando la maggior parte delle realtà oggi utilizzano modelli strutturati ma negli anni e per stratificazione e il cambiamento è sempre una una parola tabù benessere psicologico burnout cioè quindi aumento di stress ansia durante la pandemia ha evidenziato l'importanza di sostenere quindi anche il benessere mentale è necessario fare anche un salto tecnologico entra in gioco una leadership empatica quindi una leadership dove non tu devi fare queste cose ma il concetto è di andare a delimitare e qua entra in gioco tantissimo l'intelligenza emotiva un approccio più umano più comprensivo del team cambiamenti rapidi del mercato perché poi ovviamente questo ha portato un'ulteriore accelerazione quindi il cambiamento è un all'ordine del giorno anzi tra parentesi su questo poi anzi ve lo consiglio subito ve lo metto poi in chat si chiama chi ha spostato il formaggio vi consiglio questo piccolo libricino che leggetti in un'ora ma molto carino questo soprattutto per i manager si chiama chi ha spostato il formaggio sul sui cambiamenti e naturalmente professionale sociale ambientale a che sostenibilità e business devono seguire ecco quando parliamo di sostenibilità non parliamo solo di ambiente ma parliamo di sostenibilità inteso anche come bisogni della famiglia in relazione a quelli che sono i bisogni dell'impresa molti posti di lavoro e molti manager molte persone si sono licenziate non perché non gli piaceva quello che facevano ma perché si sono resi conto che non era compatibile con il con il loro concetto di fare e essere famiglia ok 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 poi c'è una domanda di rocco e rispondo subito dopo chiudo questa slide allora lavora quindi che cosa è successo lavoro a distanza smart working oggi se parliamo di smart working è difficile parlare di smart working se dietro non c'è un modello organizzativo di project management solido la maggior parte degli smart working sono portati il computer a casa e purtroppo in certi casi in molti casi sono ancora così benessere dei dipendenti quindi bisogna capire i bisogni e torniamo a quello che abbiamo visto prima se non capiamo i bisogni non possiamo rispondere ai bisogni e se non rispondiamo i bisogni vuol dire che loro non rispondono ai nostri bisogni leadership quindi ovviamente bisogna pensare anche una formazione di leadership molto diversa da quella che siamo abituati progettualità agine quindi vuol dire che dobbiamo essere molto più elastici quindi tutto quel quel arroccarsi nelle posizioni dei vari ambiti organizzativi quindi dei vari enti deve essere proporzionale a quanto questo permette di funzionare di far funzionare un modello di management oppure no e quindi anche la parte di sostenibilità diventa importante diciamo soprattutto per i giovani perché che cosa succede che nei nostri osservatori solo un'impresa su otto ha preso in serie cioè sta rispondendo a questo tipo di invito e sono anche quelle che in questo momento hanno hanno un reten di persone molto più alto ok cioè quindi le persone non se ne stanno andando via e chi ha sofferto maggiormente della pandemia sono stati giovani questo ha creato una spaccatura generazionale perché non dimentichiamoci che oggi un management sistemico funzionale deve essere un management sistemico intergenerazionale e extragenerazionale cioè ci deve essere una collaborazione tra generazioni ma soprattutto extragenerazionali anche perché altrimenti il rischio è che poi l'azienda implode allora c'è una domanda e quindi non saprei che se sia più corretto ad aprire il troppo troppo il modello organizzativo a culture sensibilità diverse oppure essere verticali negli obiettivi a pugno duro alla bismarca non c'è un rischio di confusione se siamo troppo aperti assolutamente rocco è vero cioè allora anche il concetto di aprire è un concetto allora che si parte larghi poi aprire un modello organizzativo significa poi anche monitorare chi e come sta interagendo con l'obiettivo di dire chi dà contributi effettivi viene ingaggiato chi non dà contributi effettivi man mano viene rimesso al suo posto questo anche questo fa parte della nostra metodologia però il concetto che cos'è che partire da questo presupposto ha permesso di far emergere dei talenti che senza questo tipo di approccio non sarebbero mai usciti perché perché la loro posizione non implicava un'interazione su alcuni tavoli e questo è un peccato ok quindi rocco se ho risposto a quella alla tua domanda magari dammi un feedback ok grazie gentilissimo ok ecco questo è importante perché perché se noi oggi non affrontiamo un cambiamento di carattere sistemico all'interno di quello che ha nell'affrontare il project management il rischio è che falliamo perché perché la chiarezza che noi andiamo a creare con questa logica sistemica che adesso vedremo maggiormente nel dettaglio è soprattutto un mandatoria per le nuove generazioni perché le nuove generazioni a differenza di delle generazioni precedenti la mia generazione la generazione prima dove il lavoro lo imparavi nel lavoro adesso i ragazzi escono dall'università già con una struttura di competenze strutturata però estremamente verticale mentre noi eravamo molto più orizzontali quindi che cosa succede che se non creiamo le giuste condizioni per poter uno interagire con le generazioni precedenti che invece come abbiamo detto lavorano e ragionano in un certo modo unitamente a quello che è un po gli asset che questi ragazzi hanno sviluppato inter in contesti accademici rischiamo di farci del male o ancora peggio rischiamo di far rimbalzare delle ottime competenze a tendere perché comunque alla fine non ce n'è di storie il la vera professionalità la impari sul posto di lavoro non ce n'è di storie però dall'altra parte rischiamo di precludersene passo alla prossima così torniamo al concetto allora project management significa fare imprese che cosa significa fare impresa fare impresa significa veramente fare l'impresa cioè se in questo momento cioè se esempio andare sul k2 è un'impresa cioè quindi il concetto di fare impresa significa che io non posso fare a meno di tutte le persone che sono all'interno della mia organizzazione in forme modalità diverse ma nel momento in cui io imposto un sistema di management sistemico quindi di project management sistemico e non vado ad inserire tutti gli attori il rischio è che non è che sto escludendo qualcuno il rischio è che sto facendo un gravissimo errore non c'è niente di peggio all'interno di un'organizzazione che sentirsi esclusi quindi quali sono i passi comprendere gli obiettivi attori e comparse come ci siamo detti quindi comprendere clima relazioni necessità come ci siamo detto individuare obiettivi solide poi se le andiamo avanti quindi questi li abbiamo visti prima selezionare gli strumenti più efficaci quindi a questo punto una volta che abbiamo fatto i tre punti entrano in gioco tutti gli strumenti la digitalizzazione quant'altro ma abbiamo la conferma dei nostri attori e perché no anche delle nostre comparse che quello che abbiamo fatto in termini di modello funziona gli strumenti vengono dopo monitorare e ottimizzare ovviamente poi una domanda che arriva ma devo dedicare è necessario dedicare una figura no non è necessario è obbligatorio è obbligatorio perché se noi non mettiamo una persona a governare ciò che sta accadendo poi vedremo l'esempio poi se ci sarà modo e sarete interessati ad approfondire avremo avremo modo di entrare più nel dettaglio oltre al caso di successo di oggi però tutti i progetti che hanno funzionato a differenza di quelli che non è che non hanno funzionato ma non hanno funzionato così bene e perché c'era una persona sul pezzo competente sia dal punto di vista soft e hard skill quindi da dove partire dove arrivare quindi qual è il punto di partenza allora quindi abbiamo definito questi aspetti ok quindi li abbiamo messi bene in chiaro quindi da dove partire dove devo arrivare allora parti sempre dai problemi che torcano la maggior parte del team ok io in questo momento devo sviluppare un modello di project management prima da partire nel come quando perché dove ma il modello fermi che problemi avete se noi siamo sempre partiti dai problemi latenti questo perché perché è un argomento caldo perché si entra già nel cosa iniziamo a sporcarsi le mani prima di iniziare a parlare di teorie prima di iniziare a mettere in pista qualcosa di nuovo cioè lavoriamo su un terreno conosciuto quindi lavorare sui problemi diventa anche un modo magari per far capire che uno siamo sul pezzo e seconda cosa siamo utili e quello che stiamo facendo utile allora anche le diciamo le persone più reticenti al cambiamento diventeranno nostri sponsor questo è importante sciogli i luoghi comuni luoghi comuni sono ah ma tanto il commerciale non capisce niente eh ma tanto l'ufficio acquisti dice di fare una cosa le fa l'altra eh sì ma tanto questa persona qua segue solo le indicazioni di tutti i luoghi comuni sfatare i luoghi comuni significa capire perché sono nati questi luoghi comuni e capire anche quali di questi quali di questi effettivamente sono veri e perché da dove nascono i luoghi comuni sono il primo elemento sono il primo tassello che può far cadere tutta la torre perché se non sfatiamo questi aspetti da lì non ne andiamo fuori non dare mai nulla per scontato non dare mai per scontato le persone non dare mai per scontato un ah ma questa cosa l'abbiamo già fatta e non ha funzionato bene ok allora non ha mai funzionato e perché entriamo nello specifico non dare per scontato che tanto una persona non ti ascolta se dopo anche dopo essere andati in profondità quella persona non sta ascoltando quella persona non può stare all'interno di un'organizzazione ma avremo qualcosa di oggettivo non lasciarti deviare l'obbiettivo l'eccellenza richiede tempo ed errori che cosa significa che ad un certo punto tu dici a entro il mese prossimo dobbiamo avere un processo di progetto definito se gli aspetti sopra non sono stati sciolti non ha senso non ha senso non ha senso dare obiettivi di certo che bisogna dare un obiettivo ma se durante il percorso ci rendiamo conto che il lavoro su luoghi comuni richiede due settimane in più dobbiamo farlo perché altrimenti ciò che è dato per scontato e i luoghi comuni diventano il nostro più acerrimo nemico perché questo poi va a montare il livore di chi effettivamente non sponsorizza il cambiamento e diventa poi un un gioco al massacro ok quindi a questo punto l'eccellenza richiede tempo e dobbiamo sbagliare ma richiede anche tempo e quindi chi il project manager deve farsi promotore di questo aspetto e deve combattere col coltello nei denti per dire no se questa cosa non è matura la responsabilità è mia me la prendo io andiamo fino in fondo questo tipo di atteggiamento non ha mai e dico mai creato condizioni di disagio o tantomeno anzi ha contribuito fortemente a successo e poi si può sempre migliorare non esiste da parte del consulente da parte di ogni operatore ma anche da parte dell'imprenditore dire siamo arrivati al top no assolutamente tra parentesi il bellissimo libricino di chi ha spostato il formaggio perché proprio parte da questo presupposto cioè dobbiamo il project manager deve saper fiutare il cambiamento e deve saper fiutare cosa delle pratiche che in quel momento sono state sviluppate cosa a tutti gli effetti sta funzionando cosa sta iniziando a puzzare cosa sta dove la dove si sta iniziando ad annidare la muffa ok ecco nel frattempo prendi fiato se ci sono domande ogni tanto ve lo ricordiamo io mi sono permesso al freddo di consigliarne anche un altro io l'ho letto tutti e due che il nostro iceberg si sta sciogliendo sempre invece che coi topolini coi pinguini esatto quello che si si leggono in una sera ma in una porzione di sera perché sono anche abbastanza corti in un'oreste e mezza lo leggi e io ho apprezzato particolarmente anche l'interazione politica tra tra i vari enti ma sarà vero non voglio spoilerare ma accertare i fatti che ma si sta sciogliendo la no non si sta sciogliendo non c'è niente da fare e ciò rivisto anche del mio vissuto non solo diciamo professionale ma anche privato nelle organizzazioni anche anche nella parrocchia si parla di idee politiche di organizzazioni e eccetera quindi volevo dirti adesso iniziamo a dare un po di concretezza alla cosa noi ci siamo preparati un caso dove essendo autorizzati appunto della tmb è una azienda importante dell'automotive vicino rovigo che l'ha fatto con noi di parlarne adesso non ho visto mi sembrava di no qualcuno collegato di tmb manca mai allora alzi la mano si faccia riconoscere si faccia vedere vediamo con un caso pratico che cosa vuol dire quello che tu adesso hai riassunto in questi pochi minuti che ci siamo dati dove non potevamo fare a meno che parlare comunque di principi condivisibili bene che ci siano state anche due domande quindi cosa abbiamo fatto in tmb allora innanzitutto il caso tmb è un caso tra quelli che abbiamo fatto importante perché partiamo proprio da un da un assunto fondamentale le risorse economiche non comprano i risultati che cosa che cosa significa che spesso può capitare che ci troviamo in aziende che dicono ma io non mi posso permettere un percorso di un certo tipo perché servono risorse di un certo tipo e poi per fare un salto di qualità serve risorse economiche quanta allora è vero fino a pagina 2 nel senso che tmb è un caso di un'azienda stiamo parlando di un'azienda importantissima nel settore dell'automotive stiamo parlando di due plant con 2000 persone impiegate che hanno delle risorse economiche importanti hanno fatto degli investimenti importantissimi ma malgrado questo hanno sentito il bisogno di andare a sviluppare un percorso di management sistemico strutturato quindi parliamo di diverse bu e flussi estremamente di business unit e flussi estremamente stratificati anche nel tempo soprattutto nel tempo e conflittualità e sovrapposizione dei ruoli e quindi pur avendo investito in macchinari strumenti software e quant'altro come abbiamo visto questo gli strumenti non comprano risultati ok quindi c'era questo forte desiderio di sviluppare una cultura di impresa sulla prima linea manageriale tanto è vero che io andrea ci siamo concentrati sulla loro prima linea di manager in due sessioni speculari che sono 52 manager ho detto tutto andrea si volevo diciamo completare quello che dicevi tu perché chi ci ascolta al di là che magari c'è qualcuno di tmb forse avrà pensato sì ma io sono in un'azienda che non è così grande noi abbiamo scelto questo caso perché era anche fra virgolette parlando didattico essendo un'azienda grande ci ha permesso di vedere tanti aspetti però nell'azienda di 10 persone quella di 2000 i problemi sono gli stessi fondamentalmente ti devi relazionare direi che forse più di da un certo punto di vista so cosa ne pensi tu alfredo più l'azienda è piccola e più forse difficile intraprendere questi percorsi perché nell'aspetto relazionale magari c'è anche l'aspetto di parentela l'amministratore delegato il mio padre o mio zio o mio fratello e allora privatamente abbiamo dei rapporti che abbiamo sviluppato nella vita privata dottor pasotti ma come mi perdoni dottor pasotti ma lei era con me da tmp sì sì però non è un parenti tra di loro è un'azienda che avevamo un durante il corso una proprietà operativa quindi quello che intendo dire che le stesse problematiche vissute in tmb in questo momento le sto vivendo con una realtà di dieci persone dove facciamo sviluppando il sistema di management non cambia assolutamente niente quindi infatti il messaggio da quello perché magari uno dice sì però io sono un'azienda piccola siamo in 20 non siamo mari dell'automotive ecco chi si occupa di management sa sa bene che diciamo astraendo quanto basta i concetti e che modellizza al di modellizzare il programma con le con le fasi con la vbs eccetera forse non ne parleremo neanche oggi i problemi sono quelli poi è vero che l'ha appena detto tu ogni caso è diverso però non è che non è applicabile va declinata per l'azienda più piccola per l'azienda più grande assolutamente ho interrotto ma ci tenevo fare non interrompiti vuol dire non non interrompio faccio allora cosa abbiamo fatto allora innanzitutto competenze carattere abbiamo fatto dei laboratori per far emergere carattere preconcetti e competenze dei manager cioè abbiamo voluto mappare quello che in perfetto stile dei punti che ci siamo detti prima nel concreto con chi avevamo a che fare e anche soprattutto gli aspetti caratteriali perché sappiamo che l'aspetto caratteriale soprattutto per noi italiani è un aspetto non banale nel senso che il carattere che plasma tante volte il risultato i kpi delle competenze professionali quindi una volta che abbiamo fatto questo tipo di attività e abbiamo devo dire anche con degli stimoli anche volti un po' al alla provocazione ok ma sempre comunque con una logica di gamification cioè quindi rendere queste attività non pesanti ma estremamente divertenti dopo vedremo anche degli scatti condivisione degli obiettivi e problematiche quindi siamo partiti subito nel in questo caso lo devo ribaltare cioè prima con le problematiche e poi dalle problematiche abbiamo analizzato gli obiettivi ok quello che viene dopo quindi fino a quindi analisi delle problematiche degli obiettivi personali di gruppo condivisione analisi degli equilibri interni quindi analizzando le problematiche abbiamo visto anche quali erano gli equilibri interni li abbiamo un po' spacchettati li abbiamo messi di fronte alle persone rendendoci conto di quelli che erano un po' i limiti relazionali i preconcetti e quant'altro e quindi abbiamo ridefinito gli obiettivi individuali e comuni facendo un po' questa anamnesi è stata questa attività è stato divertente perché proprio nelle conflittualità tra aree aziendali abbiamo fatto un po' questo esempio cioè pensate che ogni area è come l'Italia del 400 no? quindi dove ci sono tutti i vari casati dove alla fine tutti vogliono avere il loro dominio tutti vogliono avere ovviamente ragione per quanto riguarda vogliono imporre le loro leggi sta di fatto che iniziamo a combattere tra di noi peccato che poi arrivano i lanzichenecchi o i turchi e ci fanno un mazzo tanto mazzo si può dire giusto a livello a livello di webinar e quindi da lì è stato interessante perché abbiamo iniziato a creare una logica del tipo ma perché e un ragionamento che ha portato poi a delle consapevolezze comuni e dell'insight che poi hanno facilitato molto le attività ok allora qua abbiamo analizzato un po' innanzitutto va bene nell'immagine che vedete in alto a sinistra abbiamo voluto chiedere a tutti che cosa si aspettano dal lavoro che andavamo a fare ma questo perché? perché alla fine del laboratorio allora in itinere alla fine noi per ogni singolo punto abbiamo chiesto di darci conferma che fosse stato trattato, gestito e che ci fosse uno spunto di miglioramento questo è stato molto importante poi quindi formazione delle cose allora abbiamo fatto una formazione sulle compi sono occupato di una formazione dal punto di vista psicologico fisico relazionale sistemiche cioè come effettivamente il concetto allora psicologico perché abbiamo comunque lavorato su tutte le fragilità e le difficoltà personali e di sistema che da un certo punto di vista non erano mai state valutate la capacità di ascolto delle persone qua vedete in basso a sinistra è stato creato un quiz di ascolto cioè innanzitutto degli assessment per capire anche secondo delle logiche prestabilite dal punto di vista psicologico quanto una persona avesse attitudine in termini di ascolto, comunicazione e relazione da lì poi abbiamo formato, quindi abbiamo creato dei microgruppi dove lì dentro si è lavorato verticalmente facendo lavorare le persone dove serviva quindi non obbligando persone che magari su determinati concetti avevano già delle buone capacità a doversi comunque sorbire delle ore su cose che già conoscevano no, abbiamo verticalizzato tutto quindi laboratori di psicodramma per condividere e risolvere i conflitti cioè abbiamo messo in scena le problematiche e mettendo in scena dal punto di vista proprio teatrale quando una persona diceva eh vabbè ma non si fa così fermo mettiamo in pausa e la persona che oggi che sta dicendo che si potrebbe fare meglio entra nel ruolo e ci fa vedere come si fa a fare meglio adesso ho fatto una breve, ho dato una breve spiegazione di che cosa significa calare lo psicodramma all'interno del modello di project manager io dedicherei ancora un paio di minuti così si capisce bene ok io lo so spiega, vai con un esempio cosa vuol dire che avete fatto lo vediamo nella slide dopo allora va bene, ok poi sviluppo di matrici di progetti volta a semplificare i flussi relazionali operativi poi abbiamo iniziato a sviluppare delle matrici fisiche per dire perfetto se le problematiche sono queste quindi come si gestiscono oggi le cose quali sono le criticità e poi le abbiamo riformate creando un modello di accompagnamento del processo e quindi creare la matrice di project management da quale poi ci metti dentro software ci metti dentro tutto quello che vuoi ottimizzate però tenendo conto di tutto il patrimonio di quello che abbiamo costruito eccolo qua attività di psicodrama per fare mezzo alle fragilità e sviluppare l'empatia e collaborazione allora inutile dire che il teatro nasce nell'antica Grecia non tanto come strumento di intrattenimento ma come è stato praticamente gli albori della psicologia perché nel vedere un dramma tu automaticamente che poi il cinema il teatro attuale quello fatto bene ancora le stesse identiche ha gli stessi obiettivi cioè quindi quello di richiamare chi in quel momento sta vivendo quel dramma e dargli degli strumenti per poter uscire viverlo quindi la catarsi e poi dargli gli strumenti per uscire fare emerge la fragilità quando vediamo un film che ci tocca particolarmente e ci commuoviamo ecco provate a immaginarvi di dove vengono espresse delle problematiche vengono votate quale mettiamo in scena oggi questa problematica particolare e quella problematica diventa poi ovviamente si definiscono quelli che sono gli attori cioè si scrive chi ha vissuto la situazione scrive quello che è accaduto personaggio per personaggio e lo mette in scena ovviamente questo tipo di diciamo questo copione e anche i personaggi vengono condivisi con il pubblico che cosa succede viene messo in scena a tutti gli effetti quello che è accaduto proprio con una simulazione teatrale ok questo oltre a essere interessante è anche molto divertente e si quando il pubblico tendenzialmente come avviene in tutte in tutti i film che si rispettano no ma io in quel momento avrei fatto così perché non ho fatto così nello psicodrama ho la possibilità di dire fermi tutti ok tu faresti meglio di lui benissimo allora ti metti al posto suo il personaggio se non ti ricordi la storia del personaggio il personaggio studiatelo un attimo sono cinque righe adesso riprendi da dove hai lasciato però ripartendo dall'ultima battuta ed è incredibile come le persone da spostarsi dalla poltrona a mettersi in piedi a vivere questo tipo di esperienza si rendono conto che quando sei in panchina come si dice sempre siamo tutti allenatori ma quando si è nel vivo dell'azione diventa tutto più difficile questo ovviamente contribuisce non solo a creare una giusta base di empatia tra le persone ma in più anche favorisce il problem solving perché la persona che ha vissuto invece la cosa in prima persona che in quel momento si è riseduta può vedere tutto da una da una prospettiva diversa perché poi alla fine emergono per esempio le fragilità delle controparti e quant'altro cioè quindi e vengono fuori anche delle sfumature dei personaggi che dicono ah ma però cavolo quello che mi aggredito in quel momento poi è stato male cavolo allora da questo punto di vista esce l'umanità esce anche quello che per me rappresenta la cosa più bella del nostro fare imprese inteso made in Italy è che alla fine i problemi accadono ma la cosa bella è che raramente all'interno di un'organizzazione c'è qualcuno che lo fa veramente con scopo di fare male di ledere qualcuno o qualcosa e quindi torniamo a lavorare sui preconcetti sull'io pensavo che e questo è il motivo per cui per noi strumenti di questo genere sono assolutamente insostituibili quindi grazie alla fiction emergono delle cose vere esatto esatto che poi fai finta di tanto è un altro ruolo come sui social non leoni da tastiera leoni da teatro e vengono fuori le cose le cose vere che poi si utilizzano dopo che poi la cosa bella che hai anche visto Andrea è che poi non è fiction perché nel momento in cui sei lì anche nella rappresentazione in quel momento lì sei lì con tutto te stesso e con le tue emozioni con le tue fragilità e quello emerge e con i tuoi punti di forza con la tua col tuo essere leone e questo vuol dire anche come capita spesso sentire delle persone che dicono guarda un po' Alfredo guarda un po' Andrea non me lo sarei mai aspettato e avrebbero reagito in questo modo quindi inizio anche a conoscere le persone sotto un profilo diverso ecco se ci sono domande anche su questo aspetto poi non mi vorrei soffermare troppo su questo perché se no rischiamo di catalizzare un po' troppo su uno strumento sì 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 faccio anche una battuta così ti faccio prendere fiato che era la visione che mi offristi tu anni fa sui processi io da ingegnere ho un processo quindi fasi flowchart attività responsabile e trascuravo anche io all'inizio la parte relazionale ma che va mappata però un ponte mappare un processo complesso quindi un flowchart di 370 elementi un ponte andrà a mappare qualcosa di invisibile anche letteralmente quella parte caratteriale non è visibile finché non emerge il processo già non è visibile non è come un processo produttivo un impianto che lo vedi è solo un problema tecnico magari difficile comprendere la natura proprio di trasformazione un conto è un processo che te lo raccontano se 10 persone su 20 te lo raccontano in quel modo probabilmente funziona in quel modo un conto è andare a mappare anche la parte relazionale che è una parte integrante dei processi ma va tutto bene tutti siamo competenti ma la relazione non è instaurata nel modo corretto il processo non funziona e quindi è come se vi fosse un guasto al processo uno o l'altro che sia di interesse esattamente esattamente non vedo domande forse le abbiamo addormentate nel caso sono due o è stasera c'è comunque il momento finale adesso siamo verso la fine ben oltre la metà per cui possiamo anche interagire assolutamente vado avanti ecco qua vediamo altre tecniche che vengono utilizzate per sviluppare il modello un aspetto qua per esempio modello abbiamo il modello relazionale operativo cioè quindi in questo caso andiamo a mappare quello che è per esempio marco della qualità qual è il suo obiettivo personale in questo caso quali sono i suoi obiettivi adesso non sto entrando nel merito però qual è il suo obiettivo personale quindi il suo obiettivo come ente e che strumenti utilizza in che tempi vuole risolvere quello che è successo se applica o applicato delle regole o non le applicate e poi qua come come è il suo carattere una persona analitica quali sono i suoi bisogni particolari quali sono i valori che muovono Marco e qua andiamo a mappare tutti gli effetti quello che abbiamo visto lo facciamo per ogni operatore da qua andiamo a creare quella che è l'evidenza di una problematica ok in questo caso era una non conformità di reparto in lavorazioni meccaniche ok altro aspetto che vediamo qua a destra è un'altra metodologia allora fondamentalmente nel corso di questi anni ho mappato due aspetti cioè noi abbiamo due modalità con le quali andiamo ad interagire a fronte di uno stimolo l'emotivo oppure l'oggettivo ok l'emotivo tendenzialmente è quello che ci mette nei guai l'oggettivo è quello che tendenzialmente ci toglie dai guai e e anche qua andiamo a analizzare per esempio le problematiche dicendo ok facciamo un esempio pratico è arrivato il responsabile di qualità ha fatto presente questa non conformità e il responsabile ha dato fuori di matto emotivo il concetto è che poi l'obiettivo è quello di trasformare quell'emotività in invece come mi dovrei essere comportato da un punto di vista oggettivo per valorizzare il mio collaboratore o ancora meglio è perché in termini come posso oggettivare quella mia reazione anche spropositata questo per esempio sono strumenti che aiutano poi in termini introspettivo a tornare a scusate a raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati prima ok ci sto dando però ecco è importante vedere come all'interno di un contesto come diceva appunto Andrea del project management sempre di più questi concetti diventano importanti perché senza questi concetti non arrivo a parlare tecnicamente di quello che sarà necessario fare quindi qual è stato un po' il il learn out quindi che cosa è venuto fuori da tutto questo allora tutte le attività e strumenti sono state concepite per essere in opera per essere messe in opera on the job che cosa significa che quello che noi abbiamo fatto aveva l'obiettivo di dire quello che vediamo oggi mettetelo in pista e quando ci rivediamo fra 15 giorni portate i casi di come avete applicato questi piccoli aspetti che se funzionano diventeranno parte integrante del modello organizzativo del project management quindi ogni sessione veniva aperta con le testimonianze dei partecipanti rispetto all'applicazione delle tecniche apprese in precedenza e diventava parte integrante del laboratorio perché e si continuava a lavorare su qualcosa di oggettivo quindi poi si lavorava per cristallizzare quanto ho preso perché per esempio ah ma questa cosa non l'ho capita questa cosa invece l'ho capita questa cosa non sono riuscita a farla capire ai miei interlocutori in seguito poi se tutto andava bene si passava agli argomenti successivi tanto è vero che magari non siamo riusciti a trattare tutti gli argomenti ma quelli che a tutti gli effetti ci sono serviti per poter dare forma al modello poi dopo ci sono adesso in futuro si stanno analizzando approfondimenti su aspetti però in generale diciamo che questo era quali sono i risultati che ha ottenuto TMB allora innanzitutto miglioramento delle dinamiche relazionali operative tra reparti e flusso di commessa miglioramento delle performance produttive quindi tempo risultato evitando poi i blocchi e naturalmente una che non è banale una semplificazione del flusso decisionale questi sono gli obiettivi che TMB ha raggiunto Andre adesso un momento di sospanze l'ha voluto magari qualcuno si sta chiedendo sì però quanto tempo ci vuole per arrivare lì è una roba di due mesi di due anni di sei mesi ovviamente domanda da un milione di dollari perché la risposta è dipende però spieghiamolo un po' meglio allora sicuramente allora noi possiamo dire in TMB questo lavoro è durato tre mesi giusto indicativamente tre mesi di come si può dire di affiancamento ma non tre mesi tutti i giorni ovviamente l'azienda intanto funzionava poi avevamo un appuntamento ogni 15 giorni ogni 15 giorni esatto il tempo è ovviamente proporzionale agli obiettivi che vogliamo raggiungere alle problematiche che incontriamo perché magari le problematiche che andiamo ad incontrare sono vanno a frenare tantissimo quello che è lo sviluppo di un sistema di project management e quindi ovvio che meno problematiche ci sono più velocemente possiamo mettere in pista il modello più chiari abbiamo gli obiettivi e l'azienda chiara gli obiettivi e tutti hanno chiari i propri obiettivi personali più ovviamente il processo diventa veloce possiamo dedefinire che per un'azienda media un'attività di questo genere con una figura all'interno che si prende carico anche dello sviluppo successivo può variare dai 3 ai 6 mesi per intenderci ti faccio un'altra domanda magari ovviamente sono che le voglio fare tutte io questa non è preparata mi è venuta adesso avete già preparato tutto non è così per cui scrivete oppure prendete la parola magari paradossale perché uno può dire d'accordo project management sistemico sistemico vuol dire che coinvolge il sistema il sistema azienda quindi tutti magari non proprio tutti enumerano ma tutte le i reparti i dipartimenti le funzioni aziendali chiamano che vogliamo e ho fatto il pensiero però con rischio di sbagliare perché adesso noi stiamo presentando diciamo tutto bello un caso di successo però magari non è sempre così per cui la domanda è secondo te pur sapendo che stiamo parlando di processi sistemico ma c'è la possibilità di fare un carotaggio su una sotto insieme una porzione di sistema dentro una funzione quindi dire che quella è il sistema anche se non è tutta l'azienda in modo tale che magari come primo step faccio una diciamo sono l'imprenditore sono chi ha il potere di lanciare questo progetto e ci provo e magari non mi brucio tutto subito ma beh è fondamentale nel senso che allora deve essere coinvolta tutta l'azienda allora sicuramente deve essere coinvolto sempre chi determina la direzione e quindi la direzione perché non possiamo fare a meno della direzione cioè ad un certo punto di dire andare al mare o in montagna capiamoci cioè primo secondo aspetto che io non so voi Alfredo ti sei frizzato o mi sono frizzato io qualcuno che mi dia feedback anche io l'ho frizzato ok vediamo adesso appena si scongela Alfredo ti hai ricongelato per cui non abbiamo sentito adesso ti sei scongelato ripeti per favore e inizia a cambiare stagione stavo dicendo che allora siamo arrivati che la direzione ci deve essere sì quello sì e dopo ti sei congelato esatto salutiamo Rocco e Ida che devono scappare grazie anche del del e allora fondamentalmente dobbiamo partire dal presupposto che un sistema di project management soprattutto in un'azienda che ha più business unit non è detto che deve essere uguale per tutte le business unit e non è detto che tutte le persone siano coinvolte devono essere coinvolte tutte le persone coinvolte all'interno di un processo cioè se noi pensiamo un processo di commessa di una business unit dovrà coinvolgere tutte le persone nella business unit se abbiamo un'altra business unit dove non coinvolge tutte le altre persone perché ovviamente non le coinvolge da un punto di vista pratico non devono essere coinvolte ok quindi iniziare poi chiudendola dando una risposta a quello che dicevi partire da cosa certo che se partiamo dall'infinitamente piccolo troviamo già un risultato e quindi vediamo ah perfetto eppur si muove funziona bene ok alla grande andiamo avanti con il resto il fatto che cos'è torno a dire questa decisione preferiamo che non sia una decisione di carattere mentale ma che sia più istintiva ovvero analizziamo i problemi perché dentro i problemi c'è tanta emotività e prima iniziamo a trasformare l'emotività in oggettività prima iniziamo a fare il management sistemico sarebbe atomico sembra atomico invece che sistemico per cui va dimensionato quindi un processo direi mi sento di completarti trasversale ultimamente i processi sono trasversali però diciamo più onnicomprensivo ma è stato perché il processo di commessa è praticamente quello che fa l'azienda forse lasci fuori l'amministrazione a meno che metti anche la fatturazione come ultimo step di commessa o anche il corsivo per cui diciamo più trasversale è più funzioni coinvolge e diciamo più efficace più trasversale quello che ci deve essere ci deve essere punto e basta tanto poi nessuno ha la soluzione prima per cui magari si parte da un processo e tratta facendo abbastanza presto direi io ci si accorde che vai coinvolta anche un'altra funzione o lo fai subito assolutamente c'è una domanda molto molto interessante di Angelo Messina l'owner dello sviluppo deve essere l'HR o un suo business partner ovviamente con il supporto della direzione allora chiarisco bene questa bellissima domanda grazie Angelo allora innanzitutto allora tendenzialmente bisogna capire anche la struttura dell'azienda l'HR ha delle competenze ma allo stesso tempo gli ne mancano altre cioè l'HR può avere e deve avere delle competenze di carattere umano e relazionale e psicologico ma gli mancano tutti gli aspetti tecnici quindi in teoria il business owner di questo tipo di attività dovrebbe essere proprio un project manager cioè che poi magari essendo tecnico deve essere formato e deve collaborare cioè HR e project manager in questo tipo di attività devono essere assolutamente collaborativi e devono e non fanno un e fanno un'unica figura poi chi governa diciamo l'attività di sviluppo del management è il project manager dell'azienda ma ovviamente non al netto di prendere decisioni senza l'HR manager questo è ok la direzione deve essere strumento informativo e naturalmente anche cioè non ci deve essere supporto da parte della direzione magari poi ho interpretato male il concetto di supporto però la direzione deve dare delle indicazioni e noi dobbiamo dare evidenza che abbiamo capito quelle indicazioni e il tipo di management che andremo il tipo di modello di management che andremo a fare di project management andrà a rispettare questo cioè quindi tendenzialmente tu mi hai chiesto questo io ti sto dando questa evidenza e te la sto dando grazie a questo modello ok ecco chiedo gentilmente ad Angelo conferma che abbia risposto in maniera efficace alla sua domanda ok e adesso lascerei aspetta scusate ok grazie Angelo a seguito allora poi ovviamente a seguito del progetto l'azienda ha potuto valutare strumenti di controllo di processi management ecco poi sono arrivati i software poi sono arrivati gli strumenti poi sono arrivate le metodologie di applicazione del modello nella quotidianità cioè quindi il cazzavite è arrivato dopo ma il meccanico l'abbiamo fatto insieme ed è questa la novità diciamo nel piccolo della novità che almeno ravviso io in questo metodo adesso è vent'anni che sono in giro anch'io a fare un po' di queste cose prima si diceva andiamo a mappare i processi magari perché c'è sottesa o vent'anni fa lo era ancora adesso un po' di meno un processo di certificazione o qualcos'altro che obbligava a rivedere una fusione a qualsiasi cosa e rivediamo in processi dal punto di vista tecnico facciamo un manuale procedure impacchettate in un word o un pdf nessuno legge nessuno nessuno è coinvolto ma ricalate dall'alto queste cose servono perché alla fine il processo deve funzionare devi fare delle mappature è vero che la ISO ha già da nove anni mollato sul manuale è bene averlo però viene dopo quindi quello che abbiamo raccontato stasera serve anche a rendere coesa la squadra a motivarla a far colare le barriere o le resistenze timidezze oppure invidia cioè tutti questi sentimenti negativi comunque ostativi rispetto rispetto alla all'efficacia del progetto e poi arriva la lina arriva l'analisi degli sprechi arriva il bpr di cui perdonateci non parliamo stasera sono comunque i grandi classiconi che arrivano dopo e devono arrivare altrimenti non si chiude il cerchio però partendo con delle persone motivate e avendo anche mappato la parte relazionale se non dico che è un percorso in discesa o che sia facile qua dipende dal livello di complessità dell'azienda però diciamo come facevano gli antichi romani le cui strade sono ancora in piedi oggi però le scavavano due o tre vetri sotto adesso spianiamo un po' e asfaltiamo ogni due o tre anni con quelle belle basi solide allora poi il sistema nel senso che il project management sistemico che diventa il suo stesso processo diventa robusto e diventa una funzione una mansione che è chiara a tutti adesso bisogna cambiare l'IRP e facciamo l'IPR e poi per vent'anni uno si tappa al naso e non guarda più niente no diventa una cosa software selection ecco o perché esatto dobbiamo prendere l'incentivo va bene fatelo lo facciamo però si fa per un certo motivo così si spiana la strada perché poi fra tre anni i processi poi cambiano però e qua mi ricollego a quello che dicevo prima del trasferimento tecnologico in CSMT lo intendiamo anche questo non vi insegniamo ad avere un risultato che comunque c'è nel breve ma poi sono in metafora a pescare invece che da il pesce per cui se questo il project manager sistemico diventa un task di qualcuno una mansione lasciatemi dire una responsabilità forse un termine migliore allora l'azienda così come fa ricerca che sviluppo continuamente e nessuno lo mette in dubbio ma quello evidente perché devo fare nuovi prodotti devo sbaragliare la concorrenza quello lo faccio ma anche un occhio ai processi i processi soprattutto quelli gestionali non produttivi perché se no vi di l'esempio di prima espianarsi la strada e capire quando è il momento giusto magari alla fronte di un progetto di questo tipo il verdetto potrebbe essere aspetto ancora sei mesi aspetto un anno devo lavorare devo fare un altro tipo di lavoro che può essere di formazione o altri interventi diciamo sulle soft skills quando è ora si parte e si parte bene e l'autobus arriva a destinazione che dice Andrea si va bene ci sono altre domande eccetera eccetera intanto che arriva le domande innanzitutto voglio ringraziare questi partecipanti che sono rimasti in linea fino a c'è un bel tasso di sopravvivenza di chi aveva le core esatto e poi voglio ringraziare anche nuovamente Angelo Messina che dice no il supporter inteso come endorsement allora grande sì Angelo assolutamente se non abbiamo l'endorsement della proprietà tanto è vero che in TMB abbiamo spinto tantissimo che la proprietà pur essendo operativo fosse con noi e anche nei momenti diciamo un pochettino più piccanti e divertenti perché era importante anche come diciamo sempre riderci sopra cioè cerchiamo di che non vuol dire banalizzare ma vuol dire alleggerire delle situazioni per poter utilizzare questa leggerezza per andare a contribuire in maniera efficace al cambiamento ok quindi io ho sempre abbiamo sempre promosso il concetto che se devo fare una cosa se la faccio col sorriso magari è più facile che mi riesca quindi ecco grazie grazie a te Simone di essere stato con noi altre domande anzi io se Andrea lo permetti chiederei proprio anche di aprire il microfono nelle domande abbandonare la chat e grazie a te Nadia ecco è importante dire che sul abbiamo intanto che magari si aprono i microfoni alzate magari la mano che così poi questo tipo di attenzione subito Giorgio Giorgio vai grazie sentite sì ok grazie grazie a tutti solo una considerazione project management beh qui siamo è molto di più del project management è quasi diciamo la filosofia la la cultura aziendale che deve avere una direzione ben precisa la direzione del coinvolgimento delle persone al centro e quant'altro perché mi chiedevo perché nel webinar proprio ristretto questo argomento a project management bella domanda Giorgio e la risposta cerco di darla altrettanto chiara rispetto alla tua domanda perché il nostro obiettivo è proprio andare a raggiungere quei project manager che magari sono sempre hanno magari un approccio quasi sempre legato culturalmente all'aspetto strumentale e quindi aprire delle parentesi che magari non sono abituati ad aprire quindi è proprio voluto per raggiungere quel tipo di target chiaro chiaro ma se se mi permetto ad esempio una delle non difficoltà ma dei punti su cui abbiamo dovuto lavorare tanto come business unit per gestire innovazione è proprio la mappatura delle competenze delle persone all'interno dei dipartimenti perché spesso si si pensa uno lavora in qualità esperto in qualità invece noi in qualità abbiamo trovato dei grandissimi esperti di elettronica ad esempio e questo il non saperlo all'interno di un'azienda perdonami magari di a tutti chi sei e dove sei perché così dai anche un'immagine un po' della tua posizione del tipo di azienda per il quale lavori perché magari chi si è collegato dopo si era persa la nostra chiacchierata iniziale ok io sono Giorgio Giorgio Martello lavoro in Copan da circa 13 anni qualcuno sì forse più di 13 anni sono passato da project management al design control attualmente abbiamo creato una nuova business unit all'interno di Copan Italia che si chiama Copan Next con l'obiettivo di gestire l'innovazione per il gruppo è in questo contesto che non in attività meramente prettamente di project management uno dei dei punti più importanti su cui abbiamo lavorato e su cui abbiamo trovato un grande valore aggiunto è quello della mappatura delle competenze spesso HR non ha le competenze tecniche per poter capire quanto importante è una diciamo la competenza di una persona al di fuori di quella del dipartimento in cui lavora questa persona quindi avere chiaro questo questo aspetto all'interno dell'azienda è un grosso valore aggiunto e qua mi ricollego all'aspetto di project management noi non abbiamo un dipartimento di project management ma creiamo dei team cross funzionali di volta in volta secondo il progetto a seconda non so c'è un progetto dove servono esperti di elettronica ok perfetto avremo l'owner con il suo team che sicuramente masticherà aspetti legati all'elettronica e così via ecco perdersi questa parte è pericoloso per un'azienda ovvero è mancante di risorse che ha all'interno e non utilizza esatto ma infatti ma infatti la tua domanda l'ho ricevuto un po' come un invito interessante cioè allora partiamo dal presupposto come giustamente dicevi che cioè allora che è un po' l'assunto che abbiamo fatto all'inizio cioè se io non so con chi ho a che fare come posso determinare degli obiettivi personali e comuni quindi il fatto cos'è che quando tu parlavi dell'HR allora l'HR dovrebbe per noi l'HR deve avere tutte quelle competenze soft aggregate mentre il project manager deve avere tutte quelle competenze hard e mettendoli insieme creiamo il profilo ideale perché poi da un certo punto di vista alcuni tipi di conflittualità le deve gestire l'HR altri tipi di conflittualità dal punto di vista tecnico le deve gestire il PR con anche i delegati in funzione agli aspetti verticali che possono emergere cioè quindi da questo punto di vista sono due aspetti che si completano poi la scelta che avete fatto in Copan secondo me è vincente da un certo punto di vista e analizzabile da un'altra però indipendentemente da tutto assolutamente la cosa ma se no non possiamo neanche parlare di project manager ma non possiamo parlare di management se prima non ho un tachimetro che mi permette di capire le persone quindi assolutamente certo grazie grazie davvero altre domande mani alzate tanto interrompo la condivisione così vedo tutti bene ok allora ci avviamo verso visto che l'orologio è inesorabile avrete visto in chat il questionario ci fa molto piacere che oltre a farci le domande ci date un riscontro un feedback su come è andato visto che abbiamo predicato spero bene e vogliamo anche razzolare bene per cui vi chiediamo un piccolo feedback e vorrei concludere con diciamo appunto una chiusura su come queste per chi è interessato poi ci si può sentire dopo il prossimo 2 d'ottobre noi abbiamo programmato un corso in modalità multiaziendale ma nulla ci vieta di intanto ho visto una domanda ora finisco poi poi vediamo leggi la tu Alfredo per cui nulla ci vieta anche di ritagliare e di interloquire con voi per chi è interessato a discutere un percorso per la vostra azienda il prossimo 2 d'ottobre c'è un corso trovate anche il link sul nostro sito di 40 ore che fa vedere con mano quindi non in un'ora di web in 40 ore di corso pratico esperienziale con questo questo tipo di tematiche per cui se siete interessati ci fa molto piacere un vostro stimolo ma Andrea io un invito cioè nel senso abbiamo fatto l'abbiamo sempre fatto da sempre gli osservatori state sviluppando il vostro progetto avete già un progetto di management di certo tipo sicuramente se siete un'azienda strutturata parliamo anche solo per avere uno scambio cioè senza alcun tipo di impegno domanda di Maria questa che la lascio tutta per te domanda da profano mi sembra che ci vogliono molte competenze psicologiche tartali no basta essere un essere umano nel senso che allora la competenza ovviamente la dobbiamo avere noi nel gestire e nel diciamo l'attività ma le persone non devono avere nessun tipo di competenza perché quello che si fa è naturalmente ce l'abbiamo già di serie cioè che è l'essere umani quindi il concetto di esprimere pareri magari facendo anche mettendoli in scena in un certo modo secondo delle metodologie delle tecniche molto semplici che sono alla portata di tutti ovviamente i 52 manager di TMB giusto di cui ne abbiamo parlato vi assicuro e vi assicuriamo che non avevano nessun tipo di competenza però si sono divertiti hanno trovato degli spunti molto interessanti poi la competenza sulla metodologia poi dobbiamo sempre partire al presupposto non cerchiamo la performance cerchiamo il risultato quindi è una cosa diversa quindi Maria dammi un feedback se la risposta è stata efficace abbastanza oppure no bene allora ricordo a tutti che il webinar è stato registrato quindi verrà messo a disposizione per chi magari avesse voglia di rivederselo non so per rimanere in qualche punto saliente oppure lo volessi inoltrare a dei colleghi eh no rivederlo no c'è una domanda per chi è chi è chi è allora no una precisazione sono sempre Maria era volevo cioè io mi riferivo all'intervento cioè all'operatore non al diciamo al gruppo ai dipendenti cioè chi interviene nel proporre questa metodologia deve conoscere determinati criteri diciamo no cioè questo sicuramente delle competenze psicologiche almeno una base e anche è fondamentale allora visto che assolutamente no adesso è chiarissimo Maria allora sì io personalmente sono un coach sistemico provengo da tre anni di scuola di psicologia sistemica di Varese eh di Monica Antognoli dove il abbiamo lavorato prevalentemente su dinamiche di facilitazione basate sull'aspetto teatrale quindi assolutamente sì sicuramente non è un'attività Maria che può essere improvvisata a volte capita magari che non lo so faccio dei dei corsi o porto avanti dei corsi facciamo delle sessioni come quelle che ha illustrato poco fa Andrea e poi le persone si improvvisano e normalmente quello può essere assolutamente dannoso perché poi si vanno cioè quello che esce il facilitatore lo deve saper gestire all'interno del gruppo e a volte possono uscire anche dei conflitti importanti non banali che se non si ha le competenze di facilitazione sia dal punto di vista psicologico relazionale si possono fare dei bei danni adesso è chiaro grazie grazie c'è Marco Serina che ha alzato la mano prego ciao io sono Marco Serina io sono un project manager in un'azienda di consulenza faccio progetti di implementazione SAP principalmente esatto Regesta Regesta esatto ecco il mio collega e volevo capire in realtà come si applica la metodologia in un ambito in cui hai comunque progetti in cui coinvolgono diversi clienti e dei team che cambiano e progetti anche abbastanza impegnativi e lunghi ok è interessante perché il modello come avevamo detto parte da attori e poi comparse ok cioè le comparse sono importanti all'interno di una rappresentazione quindi di un progetto perché comunque non si può fare a meno il fatto che cos'è che è possibile andare a creare un modello nel quale questi diventano proprio aspetti fondamentali del modello di management cioè quindi sono diventano degli aspetti dei quali il dobbiamo rispondere a questo tipo di esigenze la sfida è trovare questo tipo di soluzione cioè nella stessa TMB si sono presentate situazioni di questo genere cioè progetti di per esempio ricerche sviluppo che avevano magari incrociavano più clienti e allo stesso tempo magari andavano a implementare più persone che non tutte erano magari nel team ma erano magari fuori esterni aziende esterne o quant'altro quindi assolutamente si può fare in certi casi si deve fare grazie prego grazie della domanda interessante questa ok siamo alle 18 precise vorrei evitare dei suicidi perché dopo così diventa pesante un po' noi siamo a vostra disposizione i riferimenti li troverete poi anche immagino che le slide verranno inviate a tutti i partecipanti se aveste altre curiosità magari che non saremo nei vostri pensieri di domani dopo domani però mi venisse una riflessione volete coinvolgerci va bene anche una mail o una telefonata al di là del numeroso inviti che abbiamo fatto a farci domande potete farcelo anche per un mese quando vi viene in mente esatto anche mi sento di dire che mi viene in mente per esempio adesso appena quello quello che ha detto Marco nel dire ma approfondiamo per esempio noi siamo bravi a farci le nostre cose però magari approfondiamo un attimino questo aspetto benissimo approfondiamo anche un singolo aspetto cioè assolutamente è il nostro lavoro bene allora allora non ci resta che saluta pensavo un'altra domanda grazie Angelo non ci resta che salutarci vi ringraziamo di essere stati con noi in questa in questa oretta e mezza e ci sentiamo ci auguriamo di sentirci nei prossimi periodi e grazie un par grazie particolare a chi anche è intervenuto con le sue domande le sue per osservazioni buona serata di nuovo a tutti a presto grazie a tutti grazie buona serata a presto ciao a tutti ciao grazie buona serata grazie grazie grazie